Giovedì 21 settembre San Matteo, Apostolo ed Evangelista, Festa Calendario Romano S. Matteo, S. Matteo B. Marcos Calabrini da Modena, Sacerdote O.P., 1498 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini 4,1-7.11-13 Fratelli, vi esorto io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto. Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore. Cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri. Per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo. Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Salmi 19, 18, 2-3.4-5 I Cieli narrano la gloria di Dio. E l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio. E la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole. Di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce. E ai confini del mondo la loro parola. Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 9,9-13 In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù gli udì e disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi, misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. San Giovanni Cassiano, C.A. 360-435 Fondatore di Monastero a Marsiglia La Castità, capitolo XII-XIII, strada comunale 54, strad CB simbolo di copyright evangelizzo Quale prodigio, dei pubblicani diventano apostoli? Grandi in verità e meravigliose, e sconosciute profondamente agli uomini, se non ha chi ne fa esperienza, sono le elargizioni che Dio, nella sua ineffabile liberalità, accorda ai suoi fedeli, persino mentre restano in questo vaso di corruzione. Chi non si stupirebbe davanti alle opere di Dio e non esclamerebbe dal profondo del cuore, io so che il Signore è grande, sal 135,5, quando si vede Lui stesso, o qualche altro, passato dall'estrema cupidigia alla liberalità, dalla prodigalità ad una vita di astinenza, dalla superbia all'umiltà. Sono la in verità alle divine meraviglie che l'anima del profeta e quelle che gli rassomigliano scoprono con stupore in una contemplazione piena di miracoli. Poiché quale più grande prodigio che vedere in un breve momento pubblicani avidi diventare apostoli, persecutori feroci trasformarsi in predicatori del Vangelo pronti a subire tutto e propagare al prezzo del proprio sangue la fede che perseguitavano? Tali sono le divine opere che il figlio attesta che compie ogni giorno, unito a suo padre, il padre mio opera sempre e anch'io opero, gv 5,17. Tali sono le opere di Dio che il beato Davide canta in spirito, benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi, xal 72,18. E in di loro che parla il profeta Amos, ha fatto tutte le cose e le cambia, cambia il buio in chiarore del mattino, a m 5,8 l x x. Sono lai mutamenti della destra dell'altissimo, sal 77,11 vg. Ed è riguardo all'opera di salvezza che il profeta indirizza al Signore questa preghiera, conferma, Dio, quanto hai fatto per noi. Sal 68,29 Sì, è quello il grande miracolo di Dio, che un uomo di carne abbia respinto ogni inclinazione carnale, che, fra tante diverse circostanze, tanti attacchi che gli sono portati, egli conservi l'anima nella stessa disposizione e resti immobile in mezzo al flusso incessante degli eventi. Sal 68,29 7,45 8,35 8,15 8,35 9,35 Grazie a tutti